Si chiama Elefante dell'Arma messa in campo dal Comune di Roma per lo svuotamento delle caditoie di raccolta dell'acqua piovana otturate da fango e detriti lungo le strade della capitale e per prevenire dunque gli allagamenti del tipo di quelli che tra fine ottobre e metà novembre dello scorso anno misero in ginocchio la città. Si tratta di un potente aspiratore a due turbine capace di risucchiare aria a 400 km l'ora ed inghiottire oggetti anche del peso di 80 kg e del diametro massimo di 25 cm. Questo permette di svuotare i tombini lungo le arterie principali ad un ritmo di 8-9 l'ora sostituendo il classico sistema adottato fino ad oggi con pale e piccone che rimarrà però in uso lungo le strade più strette.